Telecamere di videosorveglianza guaste per Cassugana rendendo pubblica questa informazione e indicando i quartieri interessati si è messa a repentaglio la sicurezza dei cittadini e i responsabili ne dovranno rispondere. Abbiamo deciso di sporgere una denuncia penale contro ignoti per la diffusione di notizie atte a generare insicurezza nei cittadini. È una denuncia che è volta a individuare i responsabili, cioè coloro che hanno fatto trapelare queste notizie che sono ovviamente riservate, sono notizie d'ufficio. L'esposto alla procura nasce dall'interpellanza presentata alla giunta dal capogruppo della Lega Nord Sandro Zampese e da quello della lista Gentilini Giuseppe Basso, secondo i quali alcune delle 130 telecamere cittadine non sono attualmente funzionanti. Qualcuno dagli uffici quel dato lo ha rivelato commettendo, secondo l'amministrazione, un reato. Volere indicare luoghi dove le telecamere non sono funzionanti per motivi non di ordinare manutenzione ma di eventi straordinari significa sostanzialmente consegnare le chiavi ai ladri. Ecco, mi sembra davvero un atto di grave irresponsabilità e chi lo ha condotto si dovrà assumere le responsabilità. Già nel 2006, nel 2010 e nel 2013 erano stati registrati guasti alle telecamere ma nessuno dalle opposizioni, dice Grigoletto, si era sognato di sbandierarlo e c'è di più. In campagna elettorale l'allora candidato sindaco Manildo ha avuto proprio in casa la visita dei ladri e non ha denunciato il fatto che la telecamera appunto della sua via era fuori uso proprio in quel momento. Per non strumentalizzare questo l'allora candidato sindaco non denunciò perché la telecamera appunto gli fu risposto era assolutamente fuori uso.